Legge regionale 39 del 2017, entrata in vigore solo quest'anno. È la normativa a cui si devono i nuovi calcoli degli affitti di tutte le case ATER del Veneto. La stessa che ha portato alcuni residenti di questa palazzina di Via Longhena ad Abano Terme a rivolgersi alla nostra emittente. I loro dubbi noi li abbiamo rivolte il presidente dell'ATER di Padova, Gianluca Zaramella, che ci ha spiegato. È una legge che ha l'intenzione e la direzione di realizzare una giustizia sostanziale nella gestione degli alloggi ERP, ossia che gli alloggi ERP vadano a chi davvero ne ha bisogno e necessità. In qualche modo a quelli che sono gli ultimi della società e che non hanno la possibilità di accedere a un mercato privato. Noi abbiamo la possibilità oggi di dire che i canoni vengono applicati e individuati in modo che siano sempre sostenibili da un punto di vista patrimoniale. Canoni sostenibili spiega il presidente secondo i calcoli compiuti dall'ente che si basano sul cosiddetto indice ISEE-ERP e che ha portato a giunge non solo aumenti. Noi abbiamo calcolato che vi sia un 25% di utenti che si troveranno con un canone significativamente meno alto, quindi più adeguate le loro capacità e un 75% di utenti che si troveranno con un canone leggermente più alto. Porte aperte all'ATER di Padova, precisa però al presidente. L'ATER da sempre ha seguito con attenzione quelle che sono le esigenze, le problematiche, i disagi della nostra utenza. Chi si trova in situazioni di questo tipo, che abbia dei dubbi sulla regolarità, per qualunque ragione può rivolgersi ai nostri uffici, chiedere un appuntamento e sarà seguito con tutto il tempo necessario per chiarire la situazione. Se ci fossero errori l'ente pubblico è disponibile a rifare i calcoli e correggerli. Al fondo una sorta di rivoluzione copernicana rappresentata da nuove norme ispirate a criteri di giustizia sociale. Di sicuro nel passato è passato un messaggio che in qualche modo quando si arrivava a un alloggio ERP fosse un alloggio per tutta la vita, ma questo non è più sostenibile. Le risorse non sono illimitate, abbiamo un dovere morale che il patrimonio pubblico resti nelle mani del pubblico e che gli alloggi ERP restino nelle mani di chi ne ha più bisogno.